In apertura ci occupiamo dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del covid nella nostra regione. Per farlo abbiamo in collegamento subito Massimo Profeta con il nuovo bollettino che riporta proprio il dettaglio dei dati di oggi. Tra l'altro Massimo Profeta ci parlerà anche di screening e vaccinazioni. Buonasera Massimo. Grazie Paolo per la linea. Una buona serata a te e a tutti gli amici in visione e all'ascolto. Contagi in calo ma resta alto il numero dei ricoveri. Tra l'altro il tasso di positività della giornata di oggi è pari a 1,8%. Ma scendiamo nel dettaglio. Il concetto bollettino covid di oggi martedì 9 marzo 2021. Rispetto a ieri si registrano 187 nuovi casi di età compresa tra 1 e 96 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 48 di cui 6 in provincia dell'Aquila, 6 in provincia di Pescara, 24 in provincia di Chieti e 12 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 12 nuovi casi e sale a 1.825 di età compresa tra 60 e 92 anni. Uno in provincia di Chieti, 5 in provincia di Teramo, 6 in provincia di Pescara. Del totale odierno 7 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. Si diceva del tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno appunto è pari a 1,8%. 672 pazienti più 7 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 87 più 3 rispetto a ieri con 8 nuovi ricoveri in terapia intensiva mentre gli altri 12.566 meno 129 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Questo è il bollettino ma questa mattina Paolo si è tenuto un importante vertice in prefettura Chieti. Naturalmente presente il prefetto Forgione, c'era anche il direttore generale della ASL Lanciano, Vasto Chieti, Thomas Schell. Si è parlato di contagi e soprattutto di vaccini. Può partire il servizio. Ci salutiamo qui con il supporto tecnico di Andrea Berardinelli. Oltre ai controlli è necessario procedere anche a una valutazione se operare ulteriori screening di massa per vedere di far emergere quella parte di positivi e asintomatici che sono tantissimi. Bene, 5 di questi comuni tra il prossimo weekend e il weekend successivo, cioè il 13.14 o il 20 o il 21, faranno gli screening di massa nei loro comuni e quindi ci aiuteranno a comprendere se quest'indice salirà o ci auguriamo invece molto più probabilmente potrà scendere. Questo è l'aspicio di tutti. Quali sono i comuni? I comuni sono per il prossimo weekend saranno Castelfrentano e Guardiagrele. Per il weekend successivo invece sono Casali Incontrada, Rocca Montepiano e Santa Maria Inbaro. Chiaramente lo leggiamo tutti, lo sappiamo tutti, i vaccini non sono sufficienti per immunizzare nell'immediato la popolazione. Per cui questo tavolo nelle ultime quattro sedute in verità ha sviluppato un suo metodo condiviso anche con il presidente della provincia, il sindaco Pupillo, con il sindaco del capoluogo di Chieti e tutti i sindaci che hanno partecipato, come oggi 12, che prima si vaccina nelle zone rosse. Cioè sono 9 comuni in questo momento, chiaramente il prossimo weekend ci potrebbero essere altri comuni che entrano o forse qualcuno anche che esce. E poi in seconda battuta i comuni che ha una prevalenza oltre l'1% della popolazione. Questo è un metodo scientifico perché chiaramente la pandemia, l'abbiamo visto in Israele, in Inghilterra, dove si vaccina, dove c'è un alto carico pandemico, diminuisce la pandemia e in questo senso salviamo vita. E chiaramente, diciamo così, mantenendo una costanza di forniture, prevediamo un periodo non brevissimo per vaccinare nelle zone arancioni. Chiaramente ci auguriamo che il governo manda più vaccini nella regione Abruzzo e in questo senso questo sarà un intermezzo molto breve per poi vaccinare, come previsto, su tutti i comuni in modo uguale. Grazie. Grazie.